Sono usciti i sorteggi di Champions League e di Europa League Usciranno anche quelli di Conference ma in questo video andremo a parlare solamente quelli di Champions e di Europa League Essendo che i sorteggi di Conference League sono anche un po' meno importanti ma comunque farò uno shorts a riguardo Like, iscrizione e campanella e mi raccomando seguitemi sui social Instagram, JunoGamerTrattiroBasso, TikTok, Geron2JU Seguitemi anche sul canale YouTube Gaming, JunoGamerGaming Seguitemi su Twitter, JunoGamer Detto questo, allora, commentiamo i sorteggi Commentiamo i sorteggi della Champions League e dell'Europa League Sorteggi che si potevano vedere su NowTV e anche su Prime Video, su Dazonna eccetera eccetera Però sono dei sorteggi senz'altro molto infuocati Prima si partiva come tradizione ormai da quelli della Champions League Intorno a mezzogiorno e poi con quelli di Europa League a partire dall'una Ecco, e poi quelli di Conference dalle due in poi Ho visto qualcosina in diretta, non ho visto proprio tutto Non ho visto proprio tutto, però sono veramente delle partite wow Cioè sono delle partite, saranno delle partite su me molto belle Infatti vi vado subito a leggere gli accoppiamenti di Champions League Arsenal, Bayern Monaco, Real Madrid che sfiderà il Manchester City Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, Barcellona Questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League Poi, altra cosa, la vincente tra l'Arsenal e il Bayern Monaco andrà contro la vincente di Real Madrid e Manchester City La vincente di Atletico Madrid e Borussia Dortmund andrà contro la vincente di Paris Saint-Germain e Barcellona Il tabellone, tanto lo potete vedere tutto, è molto semplice da capire Cosicché non si facciano i sorteggi delle semifinali Le semifinali sono sotto forma, come vi ho detto prima, di tabellone per poi arrivare alla finale Cioè la parte sinistra e quella parte destra Detto questo, partiamo da Arsenal-Bayern Monaco Primo sorteggio della Champions League, dei quarti di Champions League per l'appunto E una partita, secondo me, saranno due partite andate e ritorno combattute Secondo me non è favorito, cioè secondo me non c'è una vera favorita qua Perché il Bayern Monaco sta vivendo una stagione molto negativa in campionato Secondo a meno 10 dal Bayern Leverkusen Però in Champions League il girone lo ha passato facilmente Agli ottavi di Champions League ha fatto fuori la Lazio Dunque la stagione del Bayern Monaco è tutto sommato positiva in Champions Negativa in campionato e nella Coppa di Germania Mentre al contrario l'Arsenal in Premier League è prima Sta facendo bene in Champions League, non benissimo Perché col Porto è passato comunque rigori Ma il Porto è comunque una squadra tosta da affrontare Quindi complessivamente l'Arsenal sta facendo un'annata decisamente migliore Rispetto a quella del Bayern Monaco, vero? Però secondo me alla fine il Bayern Monaco è favorito Il Bayern Monaco è favorito intanto perché la Rosa è secondo me un po' più forte E comunque i calciatori contano in queste partite Il Bayern Monaco ha più esperienza internazionale in questi anni Questo contate che è il primo anno dell'Arsenal Che torna in Champions League dopo ben 7 anni di assenza Quindi capite bene che l'Arsenal ha anche una squadra un po' più giovane rispetto a quella del Bayern Monaco Ripeto, non c'è una vera favorita Però secondo me il Bayern Monaco è un po' più avanti Secondo me il Bayern Monaco è un po' più avanti nonostante la stagione negativa dei bavaresi Vi do delle percentuali e vi dico 55 Bayern Monaco e 45 Arsenal Per me non c'è tutto sto distacco assoluto ma il Bayern Monaco è favorito Real Madrid e Manchester City Una finale, una finale anticipata Ormai è di consueto la sfida tra Real Madrid e Manchester City Già prima della finale, l'anno scorso lo abbiamo visto alle semifinali Secondo me qua parte un'imparità totale 50% Real Madrid e 50% Manchester City Per me chi dà come favorito assoluto una delle due squadre si sbaglia di grosso Perché il Real Madrid, io non ve lo sto a spiegare, è il Real Madrid Il Real Madrid è la squadra che ha vinto più Champions League in assoluto Penso che non serva una presentazione Poi sicuramente il gioco del Manchester City è migliore di quello del Real Madrid L'anno scorso il Manchester City ha dominato nella gara di Champions League Di ritorno delle semifinali il Real Madrid Questo sì, però è il Real Madrid Cioè pur sempre il Real Madrid di Modric, il Real Madrid di Vinicius Il Real Madrid di Rodrigo, il Real Madrid di Toni Kroos Il Real Madrid di Ancelotti Il Real Madrid e il Real Madrid Cioè penso che ci sia poco da dire Pellingham che è uno dei migliori capocannonieri È uno di quei giocatori che ha fatto più gol del Real Madrid quest'anno Quindi io penso che non servano presentazioni per Real Madrid Il Manchester City viene dalla vittoria della Champions League lo scorso anno Diciamo che, come vi dicevo prima, questa è una finale anticipata Questa è una finale anticipata Anche lì il Manchester City non servono presentazioni per descriverlo Perché l'anno scorso ha vinto la Champions È una squadra formata da giocatori di livello assoluto Con due tecnici a confronto Secondo me fortissimi Nel senso che Ancelotti è un tecnico Che veramente è uno dei più grandi della storia del calcio Così come Pep Guardiola Secondo me è una sfida completamente alla pari 50-50 Vedremo, vedremo Poi vi dirò anche i pronostici più avanti Nei prossimi giorni, nei prossimi settimane quando si avvicineranno queste partite Poi magari già da qui capite un po' i miei pronostici Però vi dirò i risultati esatti eccetera eccetera Anche perché comunque fare i pronostici a un mese Dalle gare di Champions League, di Europa League è un conto Fare i pronostici delle gare di Champions League, Europa League Comunque a distanza di 2-3 giorni è un altro conto Quindi potrei dirvi delle percentuali in questo video Magari nel video dei pronostici che uscirà verso aprile Quando mancherà poco tempo alle sfide Potrebbero ribaltarsi insomma Quindi per ora queste sono le mie percentuali Potrebbero cambiare, chissà Altra sfida Atletico Madrid-Borussia Dortmund Ecco, qua invece inizia a vedere una favorita Nel senso, se nelle altre due partite vedevo Sì, il Bayern Monaco favorito Ma non di così tanto Tra Real City vede una parità Tra Atletico e Borussia Dortmund Vedo meglio l'Atletico Vedo meglio l'Atletico Dico 60-40 E già inizia ad essere una percentuale abbastanza netta Ma vi dico pure 65-35 Non per screditare il Borussia Dortmund Che c'è il Borussia Dortmund che sta facendo un cammino Molto molto positivo Però l'Atletico Madrid Io la terrei d'occhio Io l'Atletico Madrid lo terrei d'occhio Perché su me se ne parla poco Ma quest'anno L'Atletico ha una marcia in più In campionato Sì, non starà facendo delle cose incredibili E comunque quarto in Liga Che non è una gran stagione Ma in Champions League L'Atletico Madrid ha fatto fuori Una delle migliori squadre del mondo L'Inter ha passato comunque i gironi facilmente Quindi occhio all'Atletico Madrid Io vi dico Occhio all'Atletico Madrid Che ha dei giocatori di un livello anche lì assoluto Come Griezmann L'esperienza di Koke La bravura, l'intelligenza di Morata Quindi la bravura di Oblak tra i pali Quindi l'Atletico Madrid è una squadra che in Champions League Eccetto lo scorso anno ha sempre fatto molto molto bene Il Borussia Dortmund a me non ha mai convinto particolarmente come squadra A me non ha mai convinto particolarmente come squadra Ha fatto su me dei gironi molto buoni Nel senso che comunque il Borussia Dortmund ha passato un girone da primo E probabilmente la Rosa non era da primo posto del girone Agli ottavi è riuscita a passare il turno contro il PSV Eindhoven Decisiva la gara di ritorno Comunque è decisiva la gara di ritorno con due reti a zero in favore dei gialloneri Quindi senz'altro il Borussia Dortmund dovrà sfruttare il vantaggio di giocare in casa Perché il Borussia Dortmund è una squadra che in casa in Champions League perde veramente poche volte Però allo stesso tempo è anche vero che l'Atletico Madrid in casa propria al Vanda Metropolitano si trasforma Quindi secondo me l'Atletico è avanti E avanti non è sicuramente una partita Cioè secondo me non saranno delle partite nettissime Nel senso secondo me l'Atletico non dominerà tutte e due le partite Però se vi devo dire una squadra che in questo momento è più avanti vi dico l'Atletico Vi dico l'Atletico Altra ultima sfida Paris Saint Germain-Barcellona Andiamo più veloci perché se no qua non finiamo più Paris Saint Germain-Barcellona Un altro accoppiamento in cui vede una favorita Che è il Paris Saint Germain Qua vi dico 60-40 Perché il Paris Saint Germain Il Paris Saint Germain scusatemi Sta facendo una stagione in netta ripresa dopo le difficoltà di inizio anno In Champions League ha fatto fatica Rischiava pure di non passare il girone Agli ottavi comunque è passato Contro la Real Sociedad senza neanche troppi problemi alla fine Mentre il Barcellona agli ottavi ha fatto fatica a passare contro il Napoli Nei gironi si è passato da primo Ma il Barcellona non è una squadra incredibile Anzi è molto vulnerabile Quindi io vedo il Paris Saint Germain abbastanza favorito sul Barcellona E ricordo e lo ripeto nuovamente Che la vincente di Arsenal-Bayern-Monaco Andrà contro la vincente di Real e City E la vincente di Atletico-Bruzzo Andrà contro la vincente di Paris Saint Germain e Barcellona Questa era la Champions League Questa era la Champions League Ora vi mostro anche quelli di Europa League Milan-Roma Partiamo da Milan-Roma Poi Leverkusen-West Ham Benfica-Marsiglia E Liverpool-Atalanta Questi sono tutti accoppiamenti Partiamo da Milan-Roma Ecco, due squadre italiane che si beccano Per i quarti di finale di Europa League Ovviamente da regolamento è consentito Perché dai quarti in poi si possono beccare tutte Non ci sono più regole Milan-Roma è una partita Secondo me nella quale Anzi saranno due partite Nelle quali vedremo senz'altro spettacolo Ne sono abbastanza sicuro Vedremo due partite di certo non noiose Vedremo due partite Secondo me molto belle Ricche di gol E quindi mi sorprenderei A vedere delle partite noiose Ecco, quindi tra Milan e Roma Mi aspetto delle partite veramente Mi aspetto delle partite veramente interessanti In questo senso Mi aspetto delle partite veramente interessanti All'andata il Milan giocherà a San Siro Quindi il Milan dovrà sfruttare Il vantaggio di giocare in casa propria Al ritorno la Roma giocherà all'Olimpico Che la Roma dovrà dimostrare Che all'Olimpico è una squadra decisamente più forte Rispetto a quella che è in trasferta Vi dico le percentuali Secondo me è favorita la Roma Ma di poco Di poco io dico 52 Roma 48 Milan Secondo me siamo comunque abbastanza lì Potrebbe passare in Milan così come la Roma Però alla fine io credo che la Roma abbia quel qualcosino in più Gioca meglio Di Roma si è portato energia nuova E la Roma in questi ultimi anni Ha fatto veramente molto molto bene in Europa League Quindi io vedo meglio la Roma Personalmente ma siamo là Leverkusen West Ham Leverkusen West Ham è una partita Saranno delle partite in cui Anche qui sono Certo che vedremo tanti gol Leverkusen era tanto così Dalle eliminazioni in Europa League Contro il Carabag Per loro fortuna Alla fine sono passati Non muoiono mai ragazzi Incredibile Bayer Leverkusen se non erro Non perde Da 37 partite Il Bayer Leverkusen ha una striscia Che probabilmente è irripetibile È irripetibile di non sconfitte In queste partite in quest'anno Quindi il Bayer Leverkusen sta facendo delle cose straordinarie Improsticabili da tutte Inizio anno Xabi Danso sta facendo un lavoro egregio Al contrario West Ham Una squadra che l'anno scorso ha vinto la Conference League In Europa League ha discreta esperienza Il West Ham ha travolto il Friburgo Negli ottavi di finale di Europa League Fatemi dire Anche abbastanza sorprendentemente Visto Vista l'andata E visto che comunque Il Friburgo è sempre stata una squadra rispettabile È sempre stata una squadra forte Nelle competizioni europee Molto difficile da affrontare Però il West Ham Ieri ha travolto completamente Il Friburgo Sono abbastanza certo Che alla fine Bayer Leverkusen Riusciva a passare Vi dico 60-40 65-35 Bayer Leverkusen Però il West Ham Non dobbiamo sottovoltarlo Benfica-Marsiglia Ecco Qua vi dico già Mi aspetto Delle partite sicuramente Con ricche di gol Però io credo Che queste due squadre Non faranno molta strada Non faranno molta strada Nel senso Il Benfica lo vedo Un pelino meglio Perché è comunque Tanta esperienza Il Marsiglia quest'anno Sì dopo il cambio allenatore Dopo l'esonda lo dico a Tuso Sta facendo veramente bene Però Almeno Questa è una sensazione Non vedo il Marsiglia Una squadra Che può andare oltre I quarti di finale D'Europa League Non la vedo Una squadra Che può andare oltre I quarti di finale Poi Che possa passare Contro il Benfica Sì perché il Benfica Sta avvenendo una stagione Negativa E quindi Intendo Nell'Europa europea Perché comunque Champions League È passata da Terza E Già prima Ha fatto comunque Fatica a passare Per dire contro Contro i Rangers Quindi Il Benfica è una squadra Che se la paragoniamo A quella di un anno fa Non c'è storia Non c'è chiaramente storia Un downgrade Sotto tutti i punti di vista Nelle competizioni europee Però Il Benfica Secondo me Questa ripete Più una sensazione A quel qualcosina in più Vi dico 52 Benfica 48 Marsiglia Queste sono i miei percentuali Liverpool Atalanta Io penso che qua Ci sia veramente poco da dire All'Atalanta è andata Malissimo Penso che a meno Di clamorosi Colpi di scena Il Liverpool Passerà Agevolmente Il turno Vi dico 80-20 Per il Liverpool Poi ovvio È vero che In Europa League Solitamente Vince la squadra Che non è la più forte Perché abbiamo visto L'anno scorso Che il Manchester United Dell'Arsenal Non sono neanche Arrivati in finale Abbiamo visto L'anno ancora prima Nel quale il Barcellona Non è neanche arrivato In finale Questo sì Ma il Liverpool Con anche L'addio di Klopp A fine stagione Non penso Topperà questa partita Non penso Topperà I quarti di finale Contro l'Atalanta Senz'altro La fronte dell'Atalanta Non è semplice Ma se l'Atalanta Dovesse passare È tanto di cappello Ma la vedo Un'impresa Abbastanza difficile Vi vado inoltre A dire le date Vi vado a dire Le date Di Europa League E di Champions League Per il resto Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di quello che ho detto Fatemi sapere Se siete ovviamente D'accordo E ditemi anche La vostra Ovviamente Ditemi anche la vostra Perché ci tengo Guardate Vi dico le date Andata dei quarti Di finale Di Champions League 9 e 10 Aprile 2024 Ritorno 16 e 17 aprile 2024 Andata Semifinale Di Champions 30 aprile 1 maggio 2024 Ritorno Semifinale Di Champions 7 e 8 maggio 2024 La finale Di Champions L'1 giugno 2024 Quindi questa qua È la Champions League Ora Vi dico Tutte le date Dell'Europa League Così anche Da rendere Questo video Informativo Oltre che a dire La mia Inutile opinione Però vabbè Questo è un altro dettaglio Quindi vi dico Andata Quarti di finale Milan Roma San Siro 11 aprile 2024 Liverpool Atalanta Andata Danfield 11 aprile 2024 Poi Ritorno Quarti di finale Roma Milan Stadio Olimpico 18 aprile 2024 Ritorno Quarti di finale Atalanta Liverpool Gavew Stadium 18 aprile 2024 Le date Dell'Europa League Andata Quarti 11 aprile Ritorno Quarti 18 aprile Andata Semifinale 2 maggio 2024 Ritorno Semifinale 9 maggio 2024 Finale 22 maggio 2024 Dublin Arena Dublino Repubblica Irlanda Quindi questo era un po' il tutto Noi ci vediamo Con un nuovo video Con il video dei pronostici Stasera E domani parliamo anche di Igor Tudor Come allenatore della Lazio